Musica Stare con te, Gesù è meraviglioso Stare con te, oh Dio è grandioso Il tuo amore mi circonda come il mare Stare con te, Gesù, stare con te Stare con te, Gesù è meraviglioso Stare con te, oh Dio è grandioso Il tuo amore mi circonda come il mare Stare con te, Gesù, stare con te Io non mi vergogno dell'Evangelo Io non mi vergogno di Lui Io non mi vergogno di Gesù Amare te, servire te, Gesù Io non mi vergogno di Gesù Io non mi vergogno dell'Evangelo Io non mi vergogno di Lui Io non mi vergogno di Gesù Amare te, servire te, Gesù Amare te, Gesù è meraviglioso Gesù è meraviglioso Stare con te, oh Dio è grandioso Il tuo amore mi circonda come il mare Stare con te,Afì e ma... Stare con te, Gesù è meraviglioso E sicuramente esiste Stare con te, Gesù è meraviglioso Stare con te, Gesù è meraviglioso Signore, Dio nostro e Padre nostro, ti ringraziamo che ancora stasera, votati al bene e alla pace di Dio, ti ringraziamo come ci hai liberati da tutti i compromessi di questo mondo divenuto diabolico, satanico ed infernale. Ti preghiamo che ce le guardi, Signore, liberandoci dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, poiché in verità, come dice Giovanni, il mondo giace nel maligno. Sia il tuo sangue sopra ciascuno di noi, perché possiamo ogni giorno rivestire la corazza della giustizia. Così lo Spirito tuo continuerà ad avere la sua vittoria attraverso l'inespugnabile gloria di Dio e la sua maestà trionfante. Sia il tuo nome innalzato sopra di noi, per Gesù Cristo, nostro Signore. Ti soffichiamo, Padre, che ancora stasera tu ci abbia a benedire, mentre ti chiediamo che ci dai ancora stasera un cuore desideroso di ricevere la Tua parola. Nel nome di Gesù, mediante il sangue dell'agnello, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Diamo gloria a Dio. Alleluia al Signore, dall'Innario, la pagina 353, il numero 189, al di là del Sol. Grazie, Signore. 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 Grazie a tutti. 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 Dei nostri corpi mortali Intanto egli ci ha dato forza E ci ha sostenuti nei momenti nei quali da noi Non avremmo potuto farcela Ma ecco che egli ha mandato il suo angelo Chiamato nella Bibbia L'angelo della faccia di Dio L'angelo del patto Alleluia E questo non è altro che il Signore nostro Gesù Cristo Non perché abbiamo mai creduto Come un certo movimento religioso Basato su dottrine diaboliche E su ispirazioni di spiriti Di seduzione che il Signore Gesù sia un angelo O l'arcangelo Michele Sappiamo che ciò riguarda La diversa manifestazione del nostro Dio Che essendo l'onnipotente Fin dal principio della creazione Quando egli creò l'uomo E la donna tratta dall'uomo Egli si mostrava loro In senso proprio visibile E come un uomo Egli si mostrava Alle sue creature Che potevano vederlo E ascoltarlo Così di seguito Se scorrete le sacre scritture Avvenne ancora al tempo di Abramo Al tempo di Giacobbe Avvenne al tempo di Gedeone Di Manoa E di sua moglie Genitore di Sansone Quante volte egli si manifestò In modo visibile come uomo E come angelo Ma egli non è carne E non è un semplice angelo Ma è l'onnipotente Spirito eterno Che ancora oggi Glorifica il nome santo Del Signore Gesù Cristo Che vogliamo fare stasera? Se Dio interviene Egli è profido E si manifesta Toccando la nostra parte debita Perché noi possiamo Esserne liberati E ciò è accaduto Come ho già detto Molte volte In un solo momento E in un medesimo istante Gloria a Dio Ma gli interventi O i pronti interventi umani A volte si fanno tanto desiderare Quanto aspettare Quanto aspettare Al punto di stancarcene E di sfiduciare Di molti Fino ad oggi Ma nel Signore Continueremo a confidare E di Lui E di Lui Avremo sempre Una fiducia Illimitata Sconfinata Incondizionata Perché si tratta Di colui che era Di colui che è Ed è colui che ritorna E' chiamato L'onnipotente Alleluia Al nome del Signore Ma noi siamo qui Per Lui stasera Ed essendo qui Per Lui Come noi Lo accoglieremo Fra noi Lo accoglieremo Con freddezza Lo accoglieremo Con indifferenza Lo accoglieremo Con uno spirito Di incredulità Questo mai Ma lo accoglieremo Con amore Ma altresì Con laudi E con ringraziamenti Di cuore Lo vogliamo fare Stasera Benedetto E' il nome Del Signore Gesù Cristo Gloria a Dio Gloria a Dio E sapete Che nelle nostre Sofferenze Conosciute Dal Signore Egli non ci ha mai Abbandonati Per lasciarci Completamente Allo sbaraglio Perché il nemico Si sarebbe Già approfittato Di vederci Completamente Ridotti Al nulla Ma il Signore Ma il Signore Invece ha promesso Per quelli che L'amano E temono Il suo nome Che hanno Intrapreso Un cammino Santo E diritto Verso il cielo Egli Ha promesso Loro Che sarà Lui Il loro Difensore Il loro Liberatore E che si Vendicherà Dei loro Propri Nemici Perché Questo È il così Parla Il Signore Benedetto Si è il nome Del Signore Stasera Lo ringrazio Portandovi Gli amati Fratelli Gli amati Saluti Da parte Dei nostri Fratelli Che ho incontrato In questa Breve Missione E visita Pastorale Nel nord Vi salutano Nel caldo Amore Di Cristo Ci siamo Ritrovati Ieri sera Laddove Fui già Molti anni Or sono Dove Abbiamo tenuto Degli incontri Nei quale Lo Spirito Santo Si manifestava Con una Potenza Gloriosa E straordinaria E i fratelli Rimasti Fedeli Al Signore E soprattutto Perché liberati Dalle onde D'urto Che il nemico Aveva provocato Nella loro vita Attraverso Il biasimo Attraverso La calunnia Attraverso Il pregiudizio E il solito Veleno Daspido Dio li ha Liberati Sono stati Umili Ed hanno Chiesto Perdono Al Signore E al pastore E la presenza Del Signore Si è Nuovamente Rivolta Verso I nostri Fratelli E ieri sera E Dio Ci ha Veramente Tanto Benedetti Gloria Al nome Del Signore I fratelli Testimoniamono Dicendo Ci siamo Sentiti Resuscitare Nello Spirito Ci siamo Sentiti Rialzare Nel cuore Ora sì Che possiamo Dire Di aver Gustato E goduta La presenza Pacifica E gloriosa Del Signore Gesù Non solo Per la Benedizione Goduta Insieme Ma per la Parola Che essi Hanno ricevuta Lodando Il nome Del Signore Lo vogliamo Ringraziare Per questo Diciamo Grazie A Gesù Per quelli Che si Rallegrano Nel Signore E nel Signore Lo Hanno Sempre Già Fatto Come Lo abbiamo Fatto Noi Insieme Ai Nossi Fratelli Benedetto Sia Il nome Del Signore Grazie a Dio Ho incontrato Pure di Coloro Che Ho Battezzati Nel nome Del Signore Gesù Cristo E di questi Una sua Figliola Ha ricevuto Il battesimo Nello Spirito Santo Qui In questo Luogo In una serata Di preghiera E questa Sua figliola Non se ne Dimentica Mai Gloria Dio Fino Ieri sera Testimoniava Ad una Nostra Sorella Che è venuta Un po' Più Tardino Dice Quella esperienza Per me è stata Unica Nel Signore Perché per più giorni Mi sono sentita Trasferita Nel regno Di Dio E la gioia Che ho provata Nel mio cuore È Indicipile Indescrivibile Fratelli Che vogliamo fare Stasera Lodiamo il nome Di Gesù Ringraziamolo Di cuore Perché laddove Il Signore Trova Dei cuori Disposti Ed hanno Amore Di ricevere La sua parola Lì La sua presenza Non è mai Mancata Io dico Ame E lo ringrazio Dicendo Di questo Che se il Signore Ci terrà ancora In questa vita Può darsi che Dio mi ci rimanderà ancora In mezzo Di loro Benedetto il nome di Gesù Stasera vogliamo subito dare Spazio alla corale Per cantare Un canto Alla gloria Di Dio Per poi Ricevere La parola Di Dio Parola Di verità Che continua Il suo corso In ciascuno Di noi Per la grazia Sua Amen Alleluia Lodiamo il nome Di Gesù Lodiamo il nome Di Gesù Diamo gloria A Dio Alleluia Ringraziamo Il Signore Gesù Ringraziamo Il Signore Gesù Alleluia Alleluia Il Signore Alleluia Josué Alleluia Alleluia Siamo venuti a proclamare Siamo venuti a proclamare Sei Degno Sei Degno Gesù Viva Mai dando il croce Il Signore Che porta Libertà Grazie Grazie Di pace Di pace Sei Degno Sei Degno Autorità Magnifico Re Forte Dio Regni Signore In maestà Principe Di pace Sei Degno Sei Degno Con autorità Ci hai liberato Ci hai liberato dall'oscurità Cantiamo del tuo amor Davanti al trono di santità Ti adoriamo Ci hai liberato dall'oscurità Cantiamo del tuo amor Davanti al trono di santità Ti adoriamo Alleluia Grazie Siamo venuti a proclamare Sei Degno Gesù Viva E dato il croce Signore Che porta Libertà Grazie 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 Siamo venuti a proclamare Sei Degno Sei Degno Gesù Viva E dato il croce Signore Che porta Libertà Ci hai liberato dall'oscurità Cantiamo del tuo amor Davanti al trono di santità Ti adoriamo Siamo venuti a proclamare Siamo venuti a proclamare Sei Degno Gesù Viva Viva E dato il croce Signore Che porta Libertà Ci hai liberato dall'oscurità Cantiamo del tuo amor Davanti al trono di santità Te adoriamo Te adoriamo Siamo venuti a proclamare Sei Degno Sei Degno Gesù Viva E dato il croce Signore Che porta Libertà Magnifico Re Alleluia Diamo gloria Alleluia Diamo gloria al Signore Gesù Alleluia Ringraziamo il nostro Padre Buono Alleluia Degno Ci vogliamo alzare Fratelli Aprite le vostre Bibbie Nel libro del profeta Geremia Capitolo 11 Leggeremo dal verso 18 Al verso 23 Ripeto Geremia capitolo 11 Dal verso 18 Al verso 23 Benedetto Benedetto il nome del Signore Gesù Grazie nostro Padre Alleluia Ti ringraziamo nel nome di Gesù Grazie, grazie, grazie Ripeto Libro del profeta Geremia Capitolo 11 Dal verso 18 Al verso 23 Alleluia Grazie Padre Vogliamo dire insieme Il Signore sia lodato Alleluia Con forza Alleluia E benedetto in eterno Alleluia Alleluia Or il Signore Mi ha fatto conoscere i loro fatti Ed io li ho conosciuti E allora Signore Tu me li hai mostrati Ed io sono stato come un agnello Od Un bue Che si mena al macello Ed io non sapeva Che facessero delle macchinazioni contro a me Dicendo Intossichiamo il suo cibo E sterminiamolo dalla terra dei viventi E non sia il suo nome più ricordato Ma oh Signore degli eserciti Giusto giudice Che provi le rene e il cuore Fa che io vegga la tua vendetta sopra di loro Perché io Ti dichiaro la mia ragione Perciò così ha detto il Signore Non profetizzare nel nome del Signore Che tu non muoia per le nostre mani Perciò così ha detto il Signore degli eserciti Ecco Io ne farò punizione sopra di loro I giovani morranno per la spada E i loro figlioli e le loro figliole Morranno di fame E non resterà di loro alcun rimanente Perché io farò venire del male Sopra a quei di Anatot L'anno della loro visitazione Vogliamo dire Amen Alla parola di Dio Signore Ti ringraziamo Perché nella luce Della parola eterna Che è ancora oggi Una parola che Si magnifica sopra quelli Che in essa Si sono sempre Dilettati con amore Dacci ancora stasera Di ascoltarne Una piccola parte Di questo prezioso tesoro Di cui ci hai fatti Partecipi In molti In molti In molti In molti Occasioni Nelle quali tu Ci hai chiamati Alla tua presenza Sia il tuo nome Sopra di noi E la tua gloria Magnifica Si spanda ancora E sia Santificata Sopra le anime nostre Per mezzo di Gesù Cristo Noi ti innalziamo E ti preghiamo Tienici Sotto il tuo sangue Prezioso E in comunione con te Dacci da intercedere In spirito Perché tuo Dio Prenda del tuo E ce lo annunci Ancora in questa sera Nel nome di Gesù Noi ti adoriamo Supplicandoti insieme Benedetto In eterno Amen 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 Accomodatevi Benedetto è il nome del Signore Gesù Cristo Sappiamo che nella Visione Celeste Di un regno Che ci è proposto Dio ha voluto Accumulare dentro questi Depositi Del suo E non l'abbiamo Perduto Né mai Sprecato Ma nei momenti Di arsura Di secchezza Nei momenti in cui La fame spirituale Continuerà A farsi sempre più grande Dio ha provveduto Delle riserve Speciali Per noi Attraverso La sua Parola Benedetto Il nome di Gesù E sapete che quando Ci sono tempi Nei quali La squallida situazione Della vita materiale Che incorriamo Si potrebbe Incorrere Durante gli anni Di questo Nostro Soggiorno Terreno Se abbiamo Delle riserve Alimentari E' ovvio Che ne Usufruiremmo E Non Patiremmo La fame Non Moriremmo Di Nevia Ma ci Sosterremmo E Non Cadremmo Stecchiti Morti A Terra Beate L'anima Che mentre La parola Di Dio Ci viene A noi Rivolta Ma Ciascuno di noi La depositi Qui dentro Perché Verrà Tempo Nel quale E ciò E' scritto Nella parola Di Dio Che il Signore Manderà Nel paese Non Fame Di pane E di acqua Seppure Questa Si avvicina Sempre Sopre più A tutte Le nazioni Laddove Lo spreco E' stato Grande Laddove Ancora Oggi Non tutti Fanno Stima Ed apprezzano Il pane Quotidiano Che Ricevono Per la Grazia Di Dio Ma la scrittura dice Non sarà Fame Di pane E d'acqua Ma egli manderà Un'altra fame Sopra le nazioni La fame Di udire La parola Di Dio E molti è scritto Da L'Oriente E dall'Occidente Dal Settentrione E dal Mezzodì Verranno Verranno Da ogni Parte Per Cercare Chi Ancora Può Parlare Loro Secondo Lo Spirito Eterno Di Dio Per Recare La parola Di Dio Che è l'unica Parola Che forza E speranza Per il presente E per il futuro Per quel futuro Che oramai È incerto Davanti a tutti Gli abitanti Della terra Trapuntato Da molti Grandi punti Interrogativi Ma vedete Che la parola Di Dio È un sostegno Che non verrà Mai Meno Ed Essa parola Ci sostiene Dal Di dentro E non Ci ha mai Fatti Deperire Ne Ci ha Fatti Sentire Come Coloro Che essendo Stati In mezzo Alle Gravi Circostanze Della vita Non Si sono Più potuti Aggrappare A Cristo Né Sperare Nella Sua parola Perché se ne Sono Separati Ed Allontanati A volte Questo Non Avviene Non Avviene Come scritto Nel libro Del profeta Isaia Non Avviene Perché a fior di labbra Si menzioni Il suo nome O che Sia Rimasta Nella Mente Di molti Una Ricordanza Di Cristo Oramai Invecchiata Si al punto Di morire Il loro E Il Signore dice Si accostano Davanti A Me Ed Essi Pronunciano Il Mio Nome E leggiamo In altre parti Della scrittura Quando parla Del digiuno Secondo Il Dio Si apprezzano Come Volendo Mostrare Il loro Interesse Nei confronti Della Volontà Di Dio Per Conoscerne Il diritto Il pensiero E L'opera Come Molti Hanno Mostrato In diversi Tempi Li Abbiamo visti Così tanto Interessati Tanto Presi Tanto Zeranti Nell'esteriore Ma Dal di dentro Di Loro Non Non Sortiva Il Minimo Dei Sentimenti Sinceri Verso Il Signore E la Sua Parola E la scrittura dice Essi Mi onorano Con le loro Labbra Vedete Mi onorano Non che mi bestemmino Non che mi disonorino Non che mi disprezzino Non che parlino male di me Essi mi onorano con le loro labbra Ma il loro cuore è lungi dalla mia presenza E stasera per noi è un motivo specifico da parte di Dio per intrattenerci alla sua presenza perché non vogliamo diventare delle foglie secche che dimenate dal vento non avranno più alcun valore Nemmeno per il Signore Ma egli che ha sempre voluto mostrare al suo popolo un interesse del tutto legittimo e paterno ha provveduto per tutti i tempi perché attraverso i diversi canali che egli ha voluto usare secondo il suo volere ha mostrato a ciascuno del suo popolo che egli avrebbe voluto rivederli nuovamente alla sua presenza con un cuore desideroso di realizzare l'opera di Dio e di averla a cuore tutti i giorni Benedetto sia il nome del Signore Ma quando egli manderà Benedetto sia il nome del Signore Benedetto sia il nome del Signore Mi trovai all'andata per andare a trovare i nostri fratelli con l'aereo, avevo accanto una donna piuttosto anziana di Pozzuoli e avevo un libro nelle mani. Ho letto il titolo di quel libro e c'era scritto, Ippinosi mortale. Gli ho detto, signora, ma lei cosa sta leggendo? Era accanto a me. Sa, a me mi piace leggere certe cose, certi fatti, certi avvenimenti. Sì, sì, ma io ho detto, ma lei l'ha mai letta la Bibbia, la parola di Dio? Sì, una volta tanto così, come dire, gli ho dato uno sguardo piuttosto superficiale. Io invece le dico e la invito a leggere la parola di Dio, Perché la parola di Dio è un vero nutrimento per la sua anima, ma nel contempo, gli dissi, gli rinnova pure la mente e il cuore. Ne faccia buon uso perché il Signore ancora oggi desidera trasmettere a quanti sono nel buio della propria ignoranza che c'è un solo capitolo nel mondo, ed è l'unico, ed è la parola di Dio che può salvare e liberare le anime dal compromesso della morte e dal fausto inganno delle tenebre e del peccato. Benedetto il nome di Gesù, Dio si è ringraziato, fratelli. Così stasera leggiamo come d'altronde è accaduto in diverse epoche e nei secoli fino ad oggi che non tutti hanno aderito, non tutti si sono disposti, non tutti hanno dato il loro amen alla parola di Dio. E mi pare che oggi dare l'amen alla parola di Dio è divenuto come uno sforzo sovraumano. Non so se sono chiaro, ma per quelli che vivono la parola di Dio e se ne alimentano nei tempi in cui, come ho già detto, si comincia a sentire la fame e la sete di udire la parola di Dio, oggi molti, per non dire che la rifiutano, per non dire che non sono d'accordo con la parola di Dio, per non dire che non se ne compiacciono e non la condividono e si sbuffano e si resistono e contrastano alla parola di Dio e a volte il loro amen è un amen sforzato. Ma sapete che le cose non fatte col cuore non sono state mai gradite a Dio e Dio non è stato onorato perché maledetto è l'uomo che fa l'opera di Dio in modo rimesso, così anche nella mode, così nel ringraziamento, così nell'accoglimento della parola di Dio. Molte volte abbiamo notato certi che hanno mostrato piuttosto uno spirito di avversione, ma è così che è accaduto al tempo dei santi profeti di Dio. Una volta che un cuore è indurito diventa un'arma tagliente nelle mani di Satana. Ma un cuore credente, un cuore circonciso dallo Spirito Santo è un cuore che rimane aperto a Dio e quando ode la sua parola non può fare a meno perché diventa un fatto irresistibile di ringraziare il Signore e il nome del Signore, così anche stasera noi vogliamo fare la medesima cosa. Glorie a Dio! E questi non resteranno nella freddezza confusionale, non resteranno in uno stato di disordine e di vergogna, ma essi si rivestiranno dell'autentica parola di Dio ed avranno a cuore di sostenere le loro anime attraverso questo alimento che essi hanno deposto giorno dopo giorno dentro questi buoni magazzini. Non so se i vostri magazzini sono vuoti, non so se i vostri magazzini sono deserti, non so se i vostri magazzini sono sprovvisti, ma il Signore stasera dice a tutti quelli che l'ascoltano provvedete in tempo l'alimento necessario per le vostre anime perché sta per venire una grande carestia spirituale fra tutte le nazioni. Benedetto il nome del Signore non è solo per Giuda e Gerusalemme, ma lo sarà per tutti gli abitanti della terra e soprattutto per quelli che un tempo si dilettarono nel Signore, che un tempo ebbero a cuore di servire il Signore, che un tempo essi amarono di onorare il Signore nella propria vita e hanno ricevuto ogni giorno il giusto diletto consiglio di Dio. Benedetto il nome del Signore, qui abbiamo una figura conosciuta a molti dei nostri fratelli a ciascuno di noi, il profeta Geremia, come lo furono molti altri profeti di cui il Signore ci ha parlato attraverso le scritture che egli addirittura mandava ogni mattina perché il suo popolo si riconvertisse a Dio, perché il suo popolo si rimettesse nelle sue mani, perché il suo popolo si decidesse di camminare nel suo timore, perché il suo popolo decidesse di tagliare definitamente col mondo delle tenebre e con le azioni sporche della loro carne per servire al Dio vivente e vero che è santo, santo, santo. E stasera noi lo diamo il nome del Signore perché riconosciamo che la sua parola è verità. Ed essa è stata sempre la guida perfetta e sicura, ma anche protettiva e vigilante del Signore sopra il suo popolo. E allora, quando ci si indura e si diventa indifferenti, allora non si crede più che sia stato il Signore a parlarci. Non si crede più che sia stato lo Spirito Santo a rivelarsi nel mezzo del suo popolo. E allora molti si sono aizzati contro i servitori del Signore e li hanno odiati in cuor loro, li hanno disprezzati, li hanno calugnati, li hanno vilipesi e li hanno sbanditi dalla loro casa, dalla loro famiglia, dal loro cuore e dal popolo tutto, perché oramai si erano convenuti insieme ad una congiura. contro l'unto di Dio che non sopportavano più quando egli parlava con il così, dice il Signore. Mi state ascoltando? Oggi non si vuole più sentire questa espressione profetica nelle labbra dei servitori di Dio perché non si cammina più nel sacro stato della volontà e del patto che è stato molte volte violato dal suo popolo d'ogni tempo. e quindi si sono rivoltati contro coloro che il Dio volle usare quali mezzi di riferimento al suo popolo ed essi non hanno fatto altro che obbedire alla volontà di Dio perché fosse espressa attraverso le loro labbra. E così quei di Anadotte, e ci cominciamo dagli stessi concittadini del profeta di Dio, si convennero insieme e dissero fra loro ora noi gli avveleneremo il cippo perché venga intossicato o altresì faremo un'altra cosa che muoia attraverso il nostro furibondo intervento perché egli scompaia dalla faccia della terra. Ma il Signore in quel tempo non solo ascoltò la loro congiura lesse nei loro cuori e nelle loro menti che erano menti oramai traviate e cuori oramai sopraffatti dalla violenza, dall'odio e dalla inimicizia. E si erano dimenticati che quell'uomo proferiva solo la parola di Dio la quale Dio adempiva a tutti gli effetti perché non era la parola di Geremia ma era la parola di Dio attraverso Geremia il profeta del Signore. Io voglio ringraziare Dio stasera perché mi accorgo che i veri profeti di Dio i veri uomini di Dio stanno venendo meno d'infra tutte le nazioni e sono coloro che hanno ricevuta la parola di Dio e l'hanno pronunziata con il così parla il Signore e quando questo non sarà più udito quando questo non sarà più goduto da molti d'infra le nazioni si renderanno conto di aver fatta una grande perdita a cagione della loro incredulità della loro ripellione della loro stinatezza e dell'induramento del loro cuore e del loro collo. Mi state ascoltando? Beate l'anima che stasera come in ogni tempo sa riconoscere la voce di Dio che ancora oggi fa tremare il deserto scritto nelle scritture il deserto di Cadesle e fa partorire le cerbe perché è il Signore è il suo nome è un nome eterno è un nome di gloria è un nome di vittoria gloria a Gesù alleluia benedetto il nome del Signore ed ecco che come è scritto di Paolo l'Apostolo nella sua epistola capitolo 8 dei Romani ancora i santi antichi ebrei capitolo 11 essi potevano dire che ci separerà dall'amore di Cristo nostro Signore benedetto il nome di Gesù ed essi come l'agnello di Dio furono condotti al macello per essere scannati per essere trafitti perché non pronunciassero più la parola di Dio che li fendeva di dentro e di fuori e scopriva i loro misfatti rivelava i loro pensieri i segreti del loro cuore l'intenzione della loro anima e questo essi non lo sopportavano e non potendosela prendere con Dio a livello personale se la prendevano con i santi uomini di Dio e inferociti molti si scagliarono contro di costoro con l'intenzione di ucciderli di farli fuori benedetto il nome di Gesù ma ecco che il Signore dice Geremia oh Signore degli eserciti giusto giudice che provi le reni ma anche il cuore fa che io vegga la tua vendetta sopra di loro perché io ti ho dichiarata la mia ragione Alleluia benedetto il nome del Signore lo ringraziamo stasera perché lo Spirito Santo si rivela per il presente e il futuro perché l'Onnipotente è anche un grande vendicatore dei suoi e nei confronti dei suoi avversari e questi dovranno avere a che fare col giudice supremo che non ha mai sbagliato giudizio alcuno Alleluia molte volte noi abbiamo sbagliato con i nostri erronei giudizi perché sono stati i nostri giudizi non i giudizi di Dio sono stati i nostri pensieri non i pensieri di Dio ed abbiamo sbagliato quando ci siamo riferiti agli uni o agli altri ma quando è stato l'Onnipotente a giudicare alcuno o alcuni egli non ha mai sbagliato alcun giudizio perché ha detto la pura verità ma molti non sopportano più la parola di Dio quale parola di verità perché non vorrebbero sentirne nemmeno parlare della loro condotta stolta da malvaggi da disuffidenti e da rivoltosi benedetto il nome di Gesù in quanto a me fratelli e spero pure in quanto a voi voglio sempre sottostare alla voce di Dio che essa mi giunga attraverso i cieli dei cieli o attraverso un piccolo bambino come lo fu al tempo di Samuele un piccolo bambino dove Dio mise la parola profetica nel suo cuore per dichiarare ad Eli e alla sua famiglia a quale futuro sarebbe gli andato incontro per non aver fatto quello che era giusto agli occhi di Dio nei confronti dei suoi propri figlioli malvaggi e adulteri e fu un bambino che parlò a lui e per la sua casa ma in quel momento non era il bambino Samuele che parlasse era l'onnipotente che si era rivelato in questo piccolo fanciullo che dalla tenera età stiede davanti a Dio nel tabernacolo di Dio perché consacrato a Dio presso il sacerdote di Dio stiamo qui per lodare il nome del Signore diamogli gloria fratelli benedetto il nome di Gesù mi state ascoltando benedetto il nome di Gesù e così per quelli che si sottomisero e riconobbero la parola di Dio riconobbero sinceramente ed onestamente che il Signore diceva di loro ciò che in realtà essi erano ciò che in realtà essi vivevano ciò che in realtà essi avevano combinato e di come si erano sviati e il Signore sentenziò loro a volte la morte di loro dei figli e della loro casa perché rimasero ribelli e non si sottomisero a Dio e allora pensarono che era Geremia che l'avesse contro di loro no fratelli perché quell'uomo non era altro che un canale attraverso il quale Dio parlava e lui se ne sentiva costretto a farlo perché ogni vero uomo di Dio ogni vera donna di Dio ogni vero figlio di Dio e figlia di Dio è tenuto è tenuta a dire ciò che il Signore dice e non penserà mai di dire al contrario o in modo differente ciò che il Signore gli ha ordinato mi state ascoltando stasera benedetto il nome del Signore grazie a Dio e perciò il Signore degli eserciti giusto giudice ha detto intorno a quei di Anato che cercano l'anima tua dicendo non profetizzare nel nome del Signore che tu non muoia per le nostre mani perciò così ha detto il Signore degli eserciti io ne farò punizione sopra di loro i giovani morranno per la spada i loro figlioli e i loro figlioli morranno di fame e non resterà di loro alcun rimanente perché io farò venire del male sopra quelli di Anacote l'anno della visitazione qual è l'anno della visitazione è l'anno in cui molti godranno la benevolenza del Signore ma altri saranno sottoposti al giudizio di Dio non mio non tuo non nostro ma quello di Dio vogliamo dare gloria al nome del Signore stasera innaziamo il suo nome poiché sentiamo la sua presenza meravigliosa e lo Spirito Santo è quello che conferma la verità indelebile delle Sacre Scritture lo ringraziamo di cuore lo ringraziamo di cuore lo ringraziamo di cuore ma neanche vogliamo essere di quelli come accadde tra il popolo di Israele molte volte che rinforo dei momenti nei quali e sì si sentirono toccati vibrò dentro di loro la parola di Dio si resero conto di avere sbagliato e in quel momento facevano delle promesse stupende dicendo sì sì di al Signore quando parlavano ai profeti di Dio nel caso di Mosè di al Signore che noi saremo vivienti che noi si sottometteremo alla Sua parola ai Suoi comandamenti e faremo tutta la Sua volontà e in quel momento lo dicevano davvero erano sinceri nell'esprimerlo ma subito dopo non ne facevano nulla ritornavano nuovamente a servire non Dio ma gli Dei della loro vita benedetto il nome di Gesù grazie a Dio e a volte mi consenterei come scritto della parabola dei due figlioli un padre aveva due figlioli e aveva pure dei campi con delle vigne che avevano bisogno di essere curate e del terreno che aveva bisogno di essere rimosso lavorato e disse al primo vai nei campi e vai a lavorare quello subito dice sì 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 padre mio vado subito subito appena usciva fuori di casa ci ripensò di sopra no mio padre ma che pretese ha che ora vado lì a lavorare no 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 non ci vado e ricusò di essere ubbidiente al comandamento del padre suo non riconoscendo che nell'ubbidienza ci sono tante benedizioni e tanta prosperità nella vita dei figli di Dio al secondo disse la stessa cosa e quello invece subito disse no 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 io non vado non vado a nessuna parte te lo dico fin da adesso no ma appena usci fuori disse ma non è giusto che io ricusi di obbedire a mio padre anzi farò proprio quello che lui mi ha ordinato di fare gloria a Dio aveva detto di no ma poi ripensò al suo no e si pentì nel suo cuore di aver detto di no in primo tempo ma poi si ravvide si pentì e obbedì alla voce di suo padre ed esegui la sua volontà vogliamo dire grazie al Signore stasera lo vogliamo ringraziare di cuore vogliamo dire Signore senza pregiudizi senza preconcetti umani senza che noi pensiamo che qualcuno ce l'abbia con noi contro di noi ma se c'è l'ultimo della Chiesa che ci dichiara la tua parola e ci rivela le cose che in effetti sono vivono e si muovono in noi noi dobbiamo temere il tuo nome e non guardare la carne ma guardare lo spirito che è per mezzo della carne di chiunque ha parlato a ciascuno di noi e stasera noi vogliamo ringraziare il nome del Signore perché gliel'ha fatto in ogni tempo tante volte e non una sola volta durante il ministerio terreno dell'uomo di Dio andato in cielo quando Dio si rivelava attraverso le sue labbra e a volte si rivelava duramente Dio esprimeva dei giudizi seri sapete cosa dicevano alcuni dei quali l'uomo di Dio non sapeva nulla di quello che erano di quello che avessero fatto di quello che pensarono nel loro cuore fomentarono nella loro mente dicevano alcuni dicevano agli altri che fa sei andato a raccontarci tutto al pastore ora per questo mi sta silurando dal pulpito altri ma chi ce l'ha con me ma chi ce l'ha con me il pastore in quel momento il pastore non lo pensava proprio a lui mi state ascoltando perché la parola di Dio è sempre per tutti quelli che hanno orecchie da udire alleluia al Signore e quando gli pervenivano queste notizie all'uomo di Dio diceva ma io non ne so parlare ciò che ha fatto dove è andato con chi si è incontrato ma se il Signore l'ha rivelato che colpa c'è noi mica sto con tutti a casa di tutti e ovunque entro ed esco e faccio le faccende di casa e della vita con gli altri ma lo Spirito Santo conosce minuziosamente il nostro levarci e il nostro sederci come scritto nella parola di Dio vogliamo dire grazie al Signore lo ringraziamo ancora stasera benedetto il nome del Signore è così che il Signore ha sempre fatto durante la storia dei tempi egli si riserva un tempo per tutto quello che concerne ciascun'anima ciascuna creatura che a volte ha pensato di mettere in ridicolo o in un piano di dispreggio la parola di Dio ma il Signore ne ha tenuto conto ed ha preso gli appunti dovuti fratelli non so se mi spiego per cui stasera vogliamo disporci davanti al Signore per dire Signore dacci un cuore veramente nuovo è uno spirito diritto e facci tremare alla Tua parola perché a costoro Tu riguarderai in ogni tempo e dico storo Tu te ne compiacerai vogliamo dare un potente alleluia al Signore stasera lo vogliamo ringraziare 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 grazie a Dio ma mentre gli uni si turbavano gli altri disprezzavano gli altri calunniavano gli altri dicrignavano i denti gli altri fomentavano il male contro l'uomo di Dio invece c'erano certi che tornavano a casa lodato il nome del Signore e li vedevi gioire li vedevi confiacersi e dire grazie Signore che stasera Tu hai parlato ai nostri cuori Tu ti sei rivelato alle anime nostre ed abbiamo compreso che abbiamo bisogno di ritornare a te per ricominciare bene da capo e lodavano il nome del Signore alleluia benedetto il nome del Signore perché essi mostrano un cuore umile davanti al Signore ed hanno avuto sempre un modo opportuno per lodare Gesù per ringraziarlo vediamo se lo vogliamo fare noi stasera volontariamente amè volontariamente di cuore amè grazie a Dio grazie a Dio grazie a Dio grazie a Dio benedetto il nome del Signore è così e il Signore ebbe cura di intrattenere i Suoi servi nel tempo da Lui deciso e non dagli uomini deciso non dall'inferno deciso e nessuno mai mise le mani addosso a costoro se Dio non gliel'avesse permesso benedetto il nome del Signore perché ancora è scritto guai a chi tocca i miei unti i miei unti fedeli siete pure voi mi state ascoltando gli unti di Dio cioè che avete ricevuto l'unzione di Dio e parla degli unti fedeli al Signore guai a chi tocca i miei unti e fate il male ai miei profeti diamo gloria al Signore innalziamo il suo nome e riconosciamo l'opera di Dio grazie al Signore Dio si è ringraziato e contemplando questa parte della scrittura leggendo i sacri testi uno dietro l'altro ciò che uscì dalla bocca dei santi profeti Dio l'adempì l'adempì alla lettera minuziosamente e molti non ebbero più tempo di ravvedersi di umiliarsi di sottomettersi a Dio e di ricondursi ai Suoi piedi per riconoscere la Sua autorità amè alleluia grazie al Signore benedetto il nome di Gesù so che il Signore ha parlato a ciascuno di noi egli mi ha ordinato di leggervi in questo capitolo e io ho obbedito alla voce di Dio e lo ringrazio stasera per quelli che hanno ricevuto la Sua parola e lo hanno ringraziato per Gesù Cristo nostro Signore benedetto in eterno amè alleluia alleluia vediamo chi lo loda volontariamente vediamo unite i vostri cuori le vostre voci a Dio grazie Signore alleluia e al Signore nostro Dio a Lui soltanto rendiamo gloria onore e il nostro ringraziamento e ciò lo facciamo di cuore di cuore insieme di cuore per Gesù Cristo Nostro Signore benedetto gridiamolo benedetto in eterno amè alleluia alleluia l'odiamo 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 mentre battiamo le mani l'odiamo il Signore facciamo tutte e due cose l'odiamo il Signore ringraziamolo per Gesù Cristo Signore amè e a quanti ci avete seguiti stasera ed avete ascoltato la parola di Dio piena di grazia di forza e di coraggio siate benedetti e guardati per mezzo della parola di Dio Beate l'anima che la riceve quale frutto della conoscenza di Dio e della sua perfetta volontà che Dio vi benedica mentre vi salutiamo con la pace di Gesù Cristo Signore nostro Salvatore e darvi appuntamento alle nostre prossime puntate Dio vi benedica mentre vi salutiamo con un potente Amen! Più forte! Amen! Dio sia con voi e arrivederci